Ecco il nuovo portale del Sistema Statistico Nazionale, uno strumento molto innovativo per consentire una maggiore efficienza nel funzionamento del sistema, ma anche una partecipazione maggiore da parte di chi opera nel sistema. Infine una fruizione dell'informazione disponibile per chi è al di fuori del sistema, tant'è vero che tutti i materiali vengono distribuiti attraverso la licenza Creative Commons, il che consente a chiunque di riutilizzare l'informazione citando la fonte. Abbiamo tre articolazioni fondamentali, conoscere, partecipare, condividere. Cominciamo a conoscere di più e in particolare la rete e il territorio. Ecco che possiamo navigare attraverso questa cartina, ad esempio andiamo in Lombardia, cosa accade dal punto di vista del Sistema Statistico Nazionale in questa regione. E allora abbiamo delle notizie, delle notizie sulle attività, abbiamo delle notizie sugli eventi e anche una rassegna della produzione statistica degli enti a livello regionale. Ma abbiamo molto di più, perché infatti abbiamo i soggetti della rete e quindi possiamo andare a vedere ciascun soggetto come è organizzato e che attività svolge, ad esempio le attività in ambito statistico, ad esempio le notizie per convegni, eventi, ma anche il rilascio di nuove informazioni statistiche. Ecco questo è il primo strumento, conoscere la rete, interagire in modo forte con gli altri soggetti. Il secondo tema è quello della partecipazione alla community del Sistema. Attraverso i più avanzati strumenti di social network è possibile far parte della comunità, utilizzare questo strumento per condividere informazioni, discutere e quindi questo è un passaggio molto importante, naturalmente bisognerà registrarsi per essere accreditati, per migliorare l'interazione tra i vari soggetti del sistema. Andiamo poi alla terza area fondamentale che è quella della condivisione. Sempre di più l'ISTAT, ma anche gli altri soggetti sviluppano dei prodotti e degli strumenti per riutilizzare queste opportunità da parte di tutto il sistema. Abbiamo qui, ad esempio, negli strumenti in rete, varie opportunità. Certamente il programma statistico online, attraverso cui tutto il sistema contribuisce alla definizione del programma statistico. Abbiamo poi il sistema informativo delle classificazioni ufficiali. Ecco, navighiamo un attimo all'interno di questo e vediamo come è possibile avere qui tutte le classificazioni a disposizione da parte di ciascun ente che può scaricare il contenuto delle informazioni e riutilizzarle come vuole. Naturalmente il portale è anche un luogo di condivisione delle informazioni ed ecco perché in questa parte centrale abbiamo tutte le informazioni sul funzionamento del sistema statistico europeo, sulle nuove norme, le procedure, la programmazione, le attività dei circoli di qualità e così via. E qui abbiamo, in questa parte del sito, le notizie dalla rete, il calendario con le attività principali e i prodotti del sistema. Insomma, uno strumento importante, innovativo, attraverso il quale siamo convinti che il sistema lavorerà meglio, guadagnando efficienza e soprattutto consentendo la partecipazione da parte di tutti i soggetti che fanno parte del sistema. Buon lavoro a tutti.